E bella a tutti ragazzi, io sono Emanuele, oggi come avete letto dal titolo, siamo in questo video di Dead by the Light, ma non della Play, ma dell'Isbox, e siamo in compagnia di Emanuele. Ciao! Ok. Guardate che gnocca che sono. Ragazzi, un nuovo aggiornamento vi mostro, anche se sicuramente l'avete già visto. L'avete già visto? L'avrete già visto, ecco. Sono un po' rincognonito. Guardate che gnocca! Già shoppato. Sull'Isbox. Chi è laggiù? 5 gen mancano ancora. Non è iniziato, è normale. Vabbè, appena è iniziato. Non mancano 500, qua c'ho 100. Cazzo! Dai, Meg. Ce l'ho da me! Da te? Sta qua! Da, cosa vuoi fare? È nera! No, non la so, sta molto bene. È vinto, è vinto. No, è vinto. Poi anch'io che sono un po' forte, grazie a Erwin, Luis, che mi ha insegnato il 360. Ce l'ho da me, andrò. Oh, vengono sì! Ciao! Sì! 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 Aiuto! Non me la posso tenere per mille ore. No, tengo un po' di me a questo paolo. Cazzo! Come? Ma mi lagga! Corri, corri, corri! Corri, Forrest! Corri! Eh, ma te non mi... Andiamo! Andiamo qua dove sono? Vado da accompagno per farmi curare. Oh, ma sei n'è andata? Oh, sei n'è andata? No, non c'è... No, mi devo scontrare l'acqua. Bisogna scontrare le voce. Cazzo! Eh... ecco, ma la presa a me è andata a me oh ma quanto minchia sono scarse che bello morire all'inizio, quanto caccio sono scarse è morto pure lui abbandoniamo? la sapevo usare la russo, non era scatto, la sapevo usare infatti guarda che pezza di gnocca ragazzi consigliatemi chi prendere che dici con questi potenziali? allora 88 mila, cioè me li tengo per potenziali dove sta un petto in slime? che è il mio prossimo me lo compro abbandon aspetta per potenziali clown guarda che se no si al massimo mi prendo queste tre cose nooo nooo dipende da quanto duriamo se morimo subito in questa partita ce ne facciamo un'altra ah si se no no vabbè se poi questa la vinciamo penso che ce la piatti a portare un'altra in dottore la vinci si perché in quella prima siamo morti subito quindi va bene il tempo per farcene in altra se no nella nottata e io lo tengo vicino io sto a cercarne la cassa ma perché sono sempre vicino ai killer io? eh eccolo oh perfetto scordi me eh questa l'altra è giocata in gold mi segue è gioco brutto cazzo oh a chi ha preso? 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 no ma tua mamma è quella gran banana cazzo cazzo mamma! no ma questa c'ha la mamma proprio zozzona cazzo mamma se no ti posso salvare devo farlo qua la provata gioco 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 di merda merda na merda na merda na merda na merda acute UFO NO, NO, NO! NO NO, NO MA ME SON FURATO ma non è giusto ma è possibile che mora sempre per primo no in realtà sono morto per secondo mamma mia che volo che ti ha fatto il compagno è ferito e sta a fanculo dai fate ammazzare va bene me ne faccio una da killer no no proviamo a trovarci va via no io sto dicendo me ne faccio una da killer così vediamo se ci troviamo e ti faccio far male ah dopo se ci troviamo e ti faccio far male e poi ti ammazzo perché tanti punti ti riprendi lo stesso così mi riprendo pure io al mio via spingi la izzilon vabbè ma te fai killer si ok sei pronto? si 3 2 1 via ok ok l'ho creata vai 3 2 mamma mia se riesce a entrare ehhh no poi è una lobby con il di micro wall 3 cazzo abbandona e riprova eh vai sì ma me ci sono ancora zero persone ok sbrigati speriamo che ci speriamo che ci bezziamo così parmi ma non ci facciamo tutti i sanguiniti mhm come sei un clown di merda si 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 ok per culo no no un no 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 no